Sì, non succederà a parola mia, però in caso, sì, nega, 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 per quanto sappia o dica di sapere, nega. Beh, ma se avesse le parole... Nega lo stesso. Ma se proprio... Nega, ma se mi... Nega, nega. Charlie! Cosa? Che cosa facevi? Dove? Lì, con quella! Quale? Quella! Come hai potuto! Cosa? Questo! Quando? Quando sono entrata e lei stava... Chi? Lo sai benissimo, chi, quella donna lì! Dove? Charlie! Cosa? Tu e quella donna... Ma quale donna? Quella che è uscita ora! Quando? Ma Charlie! Cosa? Non provi la minima vergogna! Perché? Per quello che... Charlie! Cosa? Che cosa vuoi per cena? Questo è l'optimum d'applicazione del metodo! Ah, un classico direi! Un uomo a cui si può fare tanto di...